Benvenuto a Pescara, come è maturata questa scelta? In quanto tempo c'è stato questo contatto e perché è accettato? Il contatto è stato molto recente perché è stato sabato dopo la partita, quindi non è che c'è stato tanto tempo, perché ho accettato, perché dietro alla scelta di venire qui a Pescara ci sono tante motivazioni, tutte molto valide, a partire dal tipo di piazza che conosco da una vita, da quando venivo da giocatore, poi da allenatore, al tipo di percorso che questa società poi ha fatto, lanciando sempre giovani molto interessanti, quindi lavorando anche con un'ottima materia prima e con campionati anche con la Serie A, che non è così centrata più volte, quindi non è una cosa da poco. Per me il gruppo di lavoro è un gruppo valido, dobbiamo dimostrarlo sul campo, quindi a di là di questo adesso ci aspetta il lavoro e ci aspetta da parte di tutti la volontà di trovare soluzioni, di venire fuori da questa situazione che sicuramente non piace a nessuno, però credo che ci sia ancora tutto il tempo per poter cercare di venirne fuori. Immagino abbia visto più volte il Pescara, che idea si è fatta dall'esterno? Sì, ho visto tutte praticamente, come ho visto tutte le partite di Serie B da qui all'inizio. L'idea è che tante volte a di là delle qualità, a di là anche delle qualità del tecnico, perché secondo me Massimo rimane un ottimo allenatore, non sempre riesci magari a trasformare quello che hai in testa. I motivi poi sono vari e io non li conosco neanche, però è capitato a me come capita a tutti, quindi insomma fa parte del nostro mestiere. Però è anche vero che tante volte questo non sono mai situazioni consolidate, si lavora per cambiarle e soprattutto con l'idea di non voler alibi, ma cercare sempre alternative per creare qualcosa che risolva. Quando tu hai un gruppo che ha delle individualità, poi sta con il lavoro di tutti quanti e cercare di far sì che questo gruppo esalti proprio queste qualità e diventi una squadra vera. Con lei si è costruito anche una fama di allenatore molto bravo quando entra in corsa e risolve situazioni difficili. Qualcuno dice che lei è anche un normalizzatore. Cosa serve? Si rivede in questa descrizione e cosa serve qui a Pescara? Un normalizzatore non è che mi fa tanto piacere, perché cosa vuol dire? Ma è vero, è capitato tantissime volte che quando ti chiamano sono tutti disperati, poi dopo quando fai bene dici ma con questa squadra si capisce per come eravate prima. Quindi sto parlando di qua. Quindi se questo è un normalizzatore, non lo so, credo che ci sia lavoro dietro e che ci sia la ricerca di trovare soluzioni. A me piacciono le sfide. Quando guardo le sfide guardo soprattutto poi l'organico, perché lì è logico che se non è campo io, che ho 50 anni, è diventato dura. Nell'organico uno cerca di esaltarlo. A me piace un calcio codificato, però che esalti le caratteristiche dei giocatori più forti della squadra. Uno parte con idee in testa e si spera che sia subito quella giusta, poi se no trovi soluzioni e cambi. Però insomma io parto da un presupposto, nel calcio non hai tempo e quindi devi far sì che quello che vuoi fare venga in poco tempo. È andata tante volte bene, adesso uno non parla mai prima, però ci la metteremo tutta per fare un buon lavoro. Lei parlava delle migliori risorse. Nel Pescara ci sono Galano, Val di Fiori, che finora non hanno reso, Memusciai. Ci sono stati anche tanti infortunati. Lei ha già un'idea, perché non ha un modulo di riferimento. Lei vedrà il materiale che ha a disposizione. Logico che un'idea c'è. Poi dopo... Adesso là mi spiace, ma a parte che magari c'ho adesso, li vedo oggi e dico che aspetta un attimo. Quindi anche là. E poi avere un minimo di vantaggio quando incontri una squadra che magari non dico un effetto sorpresa, anche perché loro è la stessa cosa. Non sappiamo come giocano, non sappiamo che idee hanno. Quindi io credo che il gruppo ha dei giocatori sia conosciuti importanti, ma sia anche dei giovani importanti. E quindi da là dobbiamo tirare fuori il meglio che è possibile. L'ultima cosa le ha detto il presidente Sebastiani e poi il primo match contro il suo mentor, Deglio Rossi. Beh, col presidente abbiamo parlato di campo e di calcio, che è la cosa più bella e non è appunto scontata mai. Nel parlare di campo e di calcio, appunto noi tanti... Giustamente ha fatto una frase, quando parlo con voi allenatori usate sempre i stessi termini, intensità, lavoro, impegno. Adesso non devo fare più chiacchia, devo fare il campo e sperare che si veda subito, prima possibile, qualcosa di interessante. Deglio per me è stato fondamentale, perché sia da giocatore, sia anche nella scelta poi di diventare l'attore, lui ha un ruolo predominante. Gli devo molto, però lo gioco che poi la posto in paglio, considera che poi anche un derby è alta e ognuno di noi fa quello che deve fare per fare il risultato. Salve, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Una domanda in due. La prima si è sentito odio? No. La seconda, il gol di Ciccone era in fuori gioco. Allora, su, io non chiamo mai i miei... Scusi, era un modo pure per rompere. No, 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 ma non perché, perché alla fine, che devi dire, se questo è il nostro mestiere, è una ruota, a volte, se hai idea, a volte gira nell'altro, quindi non c'è il massimo rispetto sempre. Poi, un po' di volte ci ho giocato contro, quindi lo conosco, però, insomma, poi dopo questo è il nostro mestiere. E gli auguro, per proseguire la carriera, veramente fortuna, perché poi dopo, la speranza nostra è di sempre avere un'altra possibilità, per riprovare a far vedere che magari... No, vabbè, adesso non è... Sarri, prima di diventare il vero Sarri, quante ne aveva avute, per dire, insomma, tante volte i meriti, cioè le qualità sono figlie di tante cose. Sul gol in fuori gioco, io, ecco, dell'arbitro non parlo mai. Ma lì era fuori gioco, sì o no? Ma, vabbè, conta poco, conta poco. Rivederci. Grazie. Grazie.